bello a tutti ragazzi e ragazzacci qui vi parla Luca che scusate per la mia assenza ho fatto i video da tre giorni fa l'ultimo video l'ho caricato scusate scusate tanto se no ho caricato i video come vedete vedo il primo episodio di Clash Royale ha raggiunto 6 visualizzazioni e 2 mi piace ragazzi ottimo continuate così continuate oggi andremo a fare due attacchi Andrea andiamo yes è uscito no su play store su app del doid e io l'ho scaricato che quel giorno non mi veniva allora mi insegno il trucco per dire non mi sto attaccando io lo attacco da qua con i giganti però io gli metto qua gli scheletrini si sto all'arena 2 come avete visto io qua c'è appunto pure il draghetto per rinforzarlo c'è appunto i golem e si golem e uscirà pure un video di clash of clans uscirà non vi preoccupare uscirà pure un video di clash of clans questa sera ragazzi ragazzi raccontarmi voi pure voi se vi piace questa serie perché davvero che stare a sostenere e ringrazio cioè sei visualizzazioni per me è tanto cioè figuriamoci è tanto che è tanto il c'è stato questo qua, ma non mi ricordo che mi piacca c'è stato un creatino quel motorino il mini pecca, mamma mia buttiamo giù i scheletrini che ho adesso ho aperto la cassa a mano per gli scheletrini però che i scheletrini guardano, è che per me io gli levo e ora metto il bomber qua metto i scheletrini, cioè sono più forti i scheletrini che questi eh, scheletrini con scheletrini e io metto un po' di frecce e buttiamo pure il drago ecco quella, ricordate la lingua blu c'è il drago, buttiamo questa qua buttiamo il gigante ecco qua, buttiamo gli altri scheletrini eh, è calma, ma hanno fatto i mori, io li faccio i mori no il gigante, allora ci mettiamo gli scheletrini qua e questo è il mini pecca e noi ci mettiamo il gigante qui ci mettiamo bastano, bastano distruggono questo oh mai, alleluia, che salvezza, gioco oh mai oh mai, al presto vi porterò a altri giochi vi porterò pure a minecraft per il pc oh mai, 30 secondi ecco, io ci metto i scheletrini io ci metto i frecce qua mi chiamo, perché è così stupido il gigante va a dare ecco qua eh ma sai che abbiamo perso, non lo so no, parità non l'ho mai fatto, eh alla prima volta è parità così pesimi perché mi sembra dopo due o tre volte che te l'hanno 60 secondi di campo questo è l'ultimo attacco, raga, perché il video non può durare più di 5 minuti cioè può durare 5 minuti io ero, devo staccare dopo già stiamo a a 5 vabbè farò l'ultimo attacco e già mi hanno fatto una stella mettiamo nel mini pelle ecca c'è la torre questo lol nicchia gli scheletrini, gli scheletrini tocca di fante la torre, ragazzo, no eh addio, eh vedete vedete meno 15 coppita che dire per questo video è tutto spolliciate commentate se non vi siete iscritti ci vediamo domani con un nuovo video ciao